La giunta comunale di Ammenno San Salvatore sta tagliando il traguardo di metà consigliatura e abbiamo avuto l'idea io e Marco di questa intervista per tirare le somme di questa metà consigliatura e gettare uno sguardo alla seconda metà. Ringraziamo di cuore la giunta che sta intervenendo al quasi completo, ma anche infatti il vice sindaco Cristian Scarpellini, però abbiamo presenti sia il sindaco Michele Sarchielli, l'assessore al bilancio Lavinia Cornali, l'assessore alla pubblica istruzione Onorina Carminati e l'assessore allo sport e alle politiche giovanili Paolo Locatelli. Sarà un'intervista molto ampia, toccherà vari temi e vari problemi, ma alla fine se i membri della giunta e il sindaco vorranno comunicare delle cose che a me sono sfuggite, non sono perfetto nemmeno io, sceglieranno loro cosa voler comunicare. L'intervista polgerà su vari temi come ho detto e partiamo con la prima domanda che è proprio per il sindaco e mi rifaccio all'ultima intervista che avevamo fatto un anno e mezzo fa, dove si parlava di due cose che erano programmate e di cui ancora non si vedono le tracce, parlo della promessa zona cani e del restauro della facciata della sede comunale, che mi sembrano cose un po' al palo. Cosa c'è di nuovo e cosa si prospetta su questo argomento? Innanzitutto grazie per l'intervista a Levini News e a Umberto Locatelli. Passiamo alla domanda che mi ha fatto Umberto. Allora è vero, la zona cani, l'area cani, ne avevamo promessa, la faremo. Purtroppo l'area cani però è vincolata alla vendita degli appartamenti comunali. Nel senso, allineazioni vuol dire una volta che tu vendi, hai le risorse per fare l'opera. Sicuramente faremo di tutto per realizzarla nel 2022. Per quanto riguarda la sede comunale, giusto ieri c'era la sovrintendenza con gli esperti per fare i rilievi sulla facciata. Abbiamo partecipato a un bando, sapremo la risposta entro il 31 gennaio 2022, per il contributo di 400 mila euro per fare le facciate. Dunque, non siamo al palo, ma siamo in fase avanzata. Nel senso, se ci ammetteranno al bando, sicuramente l'opera verrà fatta. Bene, seconda domanda. Siamo quasi a due anni di Covid, che ha portato anche nel nostro paese, specialmente all'inizio, tanto dolore, tanta paura. Ci puoi fornire un po' di numeri sull'attività del Comune durante questi due anni di Covid? Morti, malati, vaccinati, classi in quarantena e roba del genere. E infine, visto che ne parlavamo prima nel preambolo dell'intervista, so che hai deciso di non mettere l'obbligo di mascherinale aperto ad Almenno. E di questo personalmente ti ringrazio. Ci spieghi anche il perché della prima e se ci vuoi dare i numeri della seconda. Partiamo con l'obbligo della mascherina. Premetto che la mascherina va messa quando c'è la zona gialla. Noi, essendo in zona bianca, il sindaco ha la possibilità di fare l'ordinanza, ma solo valutando i casi che abbiamo in paese. Dunque, anche ieri sera abbiamo fatto un'orione con l'Ambito e l'Ats. L'Ambito ha detto che ha dato la libertà di scelta e si indice in poche parole, valutando i casi per caso. Per quanto riguarda il Covid, purtroppo non è ancora finita, perché siamo ancora in pandemia. Alcuni dati, 2019, 54 decessi. 2020, 84 decessi, che è stato l'anno peggiore. E ad oggi siamo a 47 decessi. Dunque, devo dire che dal 2019 al 2020 abbiamo avuto un aumento del 30% di decessi a causa della pandemia. Anche se non si sa chi è morto per Covid, no. In quanto i tamponi non ci sono stati fatti. Esatto. Però, attualmente, siamo sui 10 casi in paese, perché comunque, purtroppo, c'è coinvolta anche la scuola. Ma dei 10 casi in paese, quanti sono gravi in ospedale o roba del genere? Sono tutti a casa sintomatici o paucisintomatici? Sono tutti a casa per contatto di caso, dunque non c'è nessuno in ospedale. Io spesso vado sul sito della regione a vedere le vaccinazioni. Almeno è un paese ridere in Bergamasca per le vaccinazioni. Esatto. Noi siamo, ad oggi, al 90% di vaccinati. E questa è una gran bella cosa. Una cosa importante che ho notato io, ma penso che l'abbiano notato anche gli altri. Di solito, nei paesi, non solo dalmeno, ma in tutti i paesi, le asfaltature si fanno sotto le elezioni. Per avere qualche voto in più, perché dicono, vediamo che lavorano, magari. Invece qua si è proceduto in una maniera diversa. Le asfaltature sono incominciate subito. E abbiamo visto coinvolte varie vie del paese. So che ce ne sono in programma altre. Ci puoi dire quali saranno le zone, magari le vie del paese interessate all'asfaltatura dell'anno prossimo? Allora, ribadisco che siamo a metà mandato. E non andiamo a votare, dunque. Però l'impegno di questa amministrazione è quello di mettere in ordine le strade comunali. Per fine mandato dovranno essere tutte a posto. Quanto meno la maggior parte delle vie. Devo dire che è merito anche di questa amministrazione, che è stata capace di andare anche in provincia a cercare risorse, oltre che per il semaforo, è anche l'asfaltatura delle due strade principali del paese provinciali. Via Valimania e via Pitentino, fino ad arrivare al giornalaio, abbiamo asfaltato tutto. Il Comune, in questi due anni e mezzo, ha investito più di 300 mila euro sugli asfalti. La nostra intenzione è di fare un piano, ancora per gli anni a seguire, di almeno 100 mila euro di asfalti all'anno. Per quanto riguarda le strade, non te lo so dire adesso, perché comunque dobbiamo fare ancora la presentazione del bilancio del 2022. E comunque verranno rifatte le strade, primo quelle più ammalaurate naturalmente, dove c'è più viabilità, e poi verranno fatte le altre. Comunque ci teniamo alle strade comunali e verranno fatte qui. L'impegno è questo. Prossima domanda. Il biglietto da visita del paese, per uno che viene da Bergamo, è veramente una brutta cosa. Arrivi al ponte di Almenno e vedi quell'autentica schifezza che è il condominio Donadoni. Lo chiamiamo condominio Donadoni, ma non è l'unico obbrobrio del paese, si è segnalato varie volte anche il condominio Baldi e altre cose. Non si può fare qualcosa per rendere anche il biglietto da visita del paese un po' più accattivante per chi ci arriva. Dai, abbiamo delle cose bellissime che sono le nostre tre chiese, arriva qualcuno e vede quei mostri lì. Ma l'impegno di questa amministrazione sicuramente anche in vista del nuovo PGT che andiamo a fare sarà di risistemare e riordinare un po' il paese. Per quanto riguarda gli obbrobi che c'è nato, con il primo siamo in Cassazione, dunque siamo legati alle sentenze dello Stato e quant'altro. Sul secondo abbiamo scritto già ai proprietari di sistemare, perché comunque spesso cadono griglie fonti di pericolo, abbiamo già scritto, io ho fatto già l'ordinanza, hanno già sistemato quello che devono sistemare, però sarà il nostro impegno di incentivare queste persone a sistemare gli obbrobrio in base al PGT che faremo. Questa domanda la leggo perché non sono tecnico del mestiere ed è una domanda del signor Mandato Massimo. In questo momento dove lo smart working, DAD e altri servizi internet la fanno da padrona, il progetto di digitalizzazione della rete internet nelle zone periferiche del comune è un programma preso in considerazione. Spiego meglio, sono stati fatti ampliamenti alla rete da parte di Planetel, ricordiamo gli scavi di questa primavera per la posa della fibra, ma in alcuni punti del territorio tipo primo maggio e ti dico anche quartiere Ronco, dove la fibra si ferma al parcheggio e per chi abita 50 metri dopo non ne ha accesso, ma sicuramente non sarà l'unico di fatto, l'ho segnalato anche quartiere Ronco, la Madonna. Il servizio non arriva oppure arriva ma ad un decimo della velocità contrattuale, vero ci sarebbe euro, ma basta un po' di maltempo o una casa davanti che disturbi e siamo punto e da capo. In poche parole il comune ha la facoltà di stipulare accordi con le maggiori compagnie telefoniche per avere un aggiornamento non raffazzonato come quello della Planetel? Allora qua, come ho già ribadito l'ultima volta anche perché ho provato sulla mia pelle io, mi hanno venduto un cento giga e me ne arrivano otto tanto per fare un esempio con la Vodafone. Io ho contattato il responsabile della team anche perché continuano a cambiare questi responsabili, non si capisce mai chi dobbiamo parlare. L'impegno del comune anche qua, visto che abbiamo problemi anche in comune biblioteche e quant'altro, le scuole, adesso con PNR ci sono i bandi, faremo di tutto per portare la fibra dal menno. Logico che non è solo il compito del comune. Loro dicono che al menno, io ho già parlato con un po' di responsabili, non è appetibile. Non è appetibile perché non ci sono aziende, non è appetibile perché in tanti comuni c'è la fibra, sì è vero, però viene pagata per le aziende e poi dicono che è del comune, ma alla fine viene fatta per le aziende, però capisci che se l'azienda del comune di Mesa Salvatore è l'azienda più grossa che abbiamo è la fondazione di Rota e ci siamo già capiti perché negli anni precedenti sono state fatte politiche di non costruire e gli altri sono andati in altri rischi. Era quello che dicevo io, cioè basta ricordarsi che alcune giunte fa il sindaco che c'era all'epoca ha negato alla Freni Brembo la possibilità di avere uno stabilimento ad Almenno, questa era la capacità che aveva la politica di Almenno. Usatemi la cattiveria. Andiamo indietro a 30 anni, gli Hobbiton via Clanezzo hanno fatto un'area industriale che è sbagliatissima dove doveva essere dove c'è il campo sportivo invece l'area sportiva doveva essere fatta in Clanezzo perché io so dell'idea dove c'è un'azienda arrivano i autotreni arrivano i bilici e devono avere la via verità per un bilico. Giusto. In Clanezzo sappiamo già la strada però l'impegno del comune è di portare la fibra. Riguardo l'affermazione sulla fibra Umberto ribadisco che tutto quello che si è fatto per la fibra all'Almenno è stato realizzato dalla team e non dalla Planet e siamo ancora in contatto con la nuova responsabile per capire come muoverci anche su PNR se è possibile realizzarla. Dunque altra domanda e questa invece te la faccio io anche a nome di mandato massimo perché è un argomento che da 5 anni rompo le scatole e non è mai successo niente. Ripeto quando non ci sono le scuole almeno per i servizi pubblici è tagliata fuori. C'è la corsa che parte da Villa e va a Ponte San Pietro che è leggermente importante perché mette in comunicazione con la stazione dei treni con l'ospedale e con le scuole per esempio quando ci sono gli esami di maturità queste corse non ci sono io da 5 anni che lo dico e invece ci siamo sentiti promettere interessamento e roba del genere però non si vede niente di concreto anzi aggiungo che quest'anno non ci sono al festivo neanche le corse che scendono dalla Vallimania per cui se uno non ha la macchina e volesse andare a Bergamo per visitare la chiesa di Santa Lucia di domenica non può farlo non c'è nessun servizio pubblico di domenica cioè io questo argomento lo conosco bene di mio e l'importanza dei mezzi pubblici basta vedere la mattina quanto sono pieni togli anche gli studenti quelli che vengono giù dalla Vallimania quando non ci sono le scuole la gente c'è su e c'è tanta sì qua più o meno la stessa risposta come con la fibra il comune propone ma non decide io ho fatto l'incontro ma giù in arriva a Bergamo il problema è che non ha interesse loro cioè se una ditta dice io non passo la meno perché non ho guadagno c'è poco da fare potrò risentirli potremmo andare ancora a riparare visto i contatti che hai anche in Regione Lombardia diciamo che ce li hai i contatti in Regione Lombardia e visto che il trasporto pubblico locale è nelle mani di Regione Lombardia si può anche fare un pochino di pressione perché tutta la zona nostra prendiamo la zona nostra almeno San Bartolomeo Palazzago Brembate sopra al sabato all'omenica che è poco negata nei giorni non scolastici c'è poco niente si può magari dare una piccola forzatura tramite la Regione a questi servizi pubblici ma tu hai ragione però sai bene meglio di me che le società ragionano con i numeri se ho il numero ci guadagno faccio il servizio se non ho il numero non lo faccio però la Regione può anche dirgli io ci do i soldi se mi garantisci un servizio infatti io potrò fare un altro giro di incontri però non ti assicuro che da domani Milano no no sto parlando di domani ma perlomeno quest'anno scolastico sappiamo che va così però capisci che il comune non decide propone lo so e la proposta può essere accolta come respinta è come con la fiber arriviamo al punto abbastanza ci dovresti spiegare visto che hai detto che la raccolta dei rifiuti ingombranti sarà a porta senza costi aggiuntivi per l'utenza come funzionerà e già che ci sei evito di farti la seconda domanda sulla pattumiera quando verranno distribuiti i sacchi dove date e orari la distribuzione dei sacchi verrà fatta il 28 il 29 30 di dicembre 4 e 5 gennaio abbiamo inserito due giorni in più dalle 8 alle mezzogiorno dove? presso la messa dove è sempre stata fatta la messa delle scuole medie messa delle scuole medie sempre lì dunque 28 29 30 4 e 5 di gennaio 8 12 per quanto riguarda il rifiuto ingombrante il nuovo servizio dobbiamo deliberare in giunta ci sarà una piccola somma da pagare si parla dai 15 ai 20 euro al ritiro il servizio partirà da gennaio e poi tutte le mobilità le prenotazioni verranno spiegate e quando ci sarà distribuzione dei sacchi verrà inserito un volantino che spiegherà chi chiamare come prenotarsi saranno due ritiri mensili ogni due sabati passeremo a ritirare per cui non sarà come era stato detto senza costi aggiuntivi per l'utente dagli over 70 e disabili e quant'altro sarà gratuito naturalmente adesso passiamo alla domanda sulla viabilità in paese premesso che io penso che la metà delle patenti del paese andrebbero ritirate perché lasciamo stare camminando a piedi vedo la maggior parte che è col cellulare in macchina però non posso accettare che quando ti si faccia l'osservazione sulle macchine sui marciapiedi tu mi dici la strada è provinciale perché il marciapiede non è provinciale io quando vedo una mamma col passeggino che deve scendere dal marciapiede perché questo è occupato da una macchina oppure quando alla mattina ci sono degli studenti a prendere il pullman e la macchina si ferma davanti al tabaccaio e il pullman deve passare sull'altra corsia per far salire i ragazzi a me va fastidio perché è anche pericoloso cioè io vorrei un po' più di severità sulla viabilità in paese poi la zona delle 5 vie è molto particolare sappiamo tutti che ogni tanto qualche incidente ricapita moto macchine e roba del genere poi abbiamo chi propone di cambiare la viabilità in via Monte Ortigara abbiamo quella zona lì diciamo la zona che va dal cimitero all'opera Pia è io vorrei più severità in sostanza prima di tutto più severità perché sappiamo tutti tu puoi prendere tutte le misure che puoi mettere i dossi come questo qua davanti alla parrocchiale che per me è giustissimo anche se qualcuno l'ha criticato per me è giustissimo perché considerano la strada qua come una specie di autodromo di Fiorano però se non se non c'è il senso civico delle persone che guida provato qua quando il portafoglio magari la capisce purtroppo il senso civico non esiste i tre quarti della patente dovrebbero essere ritirati io faccio l'autista di mestiere ne vedo tutti i colori però riguardo la viabilità sono stati fatti interventi ultimamente allora prima cosa è stata messa una telecamera dove c'è l'edicola lì parcheggiano sempre però lì stiamo dando sanzioni tutti i giorni e spero che siano sempre di più tutti i giorni e tante volte sono stessi perché tanti sono recidivi secondo abbiamo potenziato il servizio di polizia locale non so se avete visto in giro anche l'autovettura del comune di Brembatte sopra abbiamo fatto una convenzione un accordo con il comune di Brembatte per fare più pattuglie più pattuglie vuol dire più controllo più sanzioni per quanto riguarda via Montortigara lì è legato alla famosa la famosa TR ambito di trasformazione della faglianeria esatto lì dentro c'era l'allargamento della strada però non è colpa del comune se non si trova l'acquirente in privato il problema è quello perché il comune andrebbe a realizzare parcheggi pubblici allargamento della strada e spostamento pensilina e quant'altro perché c'era sistemare ancora il famoso incrocio c'è proprio tutta la zona lì che è famosa per gli incidenti ad almeno anche perché lì siamo in attesa abbiamo messo il semaforo ma il semaforo non è la soluzione definitiva però ritornando all'ambito di trasformazione lì in previsione c'era lo spostamento della provincia della provinciale 10 metri all'interno la formazione di parcheggi pubblici lo spostamento la pensilina e l'allargamento della strada molto antigara con lo spartitraffico esatto che non permetteva più il sorpasso dell'autobus fermo ciò non toglie che con il nuovo PGT anche lì verrà inserito inseriremo delle nomi più severe per mettere al posto un incontro un altro posto dove mi è stato segnalato che fanno un po' di rally è via Molina quella zona lì proprio su via Molina voglio fare una precisazione ecco lì abbiamo messo il divieto è stato messo il divieto stiamo sanzionando chi non è residente non può transitare e abbiamo messo il dosso quello l'ho visto richiesto dai cittadini dunque loro sono contenti le auto troviamo più piano prologico stiamo controllando chi passa che non dovrebbe passare dunque per Gavini abbiamo una sola domanda poi se vuole aggiungere qualcosa a lei è entrato in vigore da poco tempo il nuovo codice della strada cosa prevede questo nuovo codice della strada che riguarda il comune prevede che le entrate del comune derivanti dalle multe vengano fatte conoscere e venga fatta conoscere la destinazione d'uso dei soldi incamerati tramite le multe ci fai sapere qualcosa magari dove sono andati i soldi delle multe di quest'anno e dell'anno scorso di quest'anno ancora non lo sappiamo perché lo deciderebbe alla fine però quelli dell'anno scorso sì allora vorrei precisare riguardo alla destinazione delle sanzioni del codice della strada che già da anni esiste un vincolo di destinazione di queste sanzioni che devono essere vincolate al 50% perciò ogni anno l'amministrazione provvede a redigere un apposito allegato al bilancio e c'è una delibera proprio di giunta comunale che quindi è pubblica può essere a conoscenza di tutti dove vengono indicati la destinazione di questi proventi del codice della strada vediamo un attimino abbiamo io ho recuperato i dati relativi agli ultimi tre anni 2019 2020 e quanto abbiamo in previsione nel 2021 allora per quanto riguarda il 2019 sono stati incassati come codice della strada 41.000 euro quindi la metà di questi sono stati destinati a spese per circolazione segnaletica stradale e alla manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica nel 2020 anche a causa della pandemia le sanzioni si sono notevolmente ridotte quindi abbiamo un incasso di 16.300 euro sul 2020 che sono andati a finanziare fornitura e posa segnaletica per la nuova viabilità in via Cimaer e servizio di formazione segnaletica orizzontale e verticale per il 2021 abbiamo una previsione di 20.409 euro allora di questi posso dire che alla data del 13 dicembre ne abbiamo incassati circa 18.000 quindi le previsioni sono in linea con quanto incassato in linea con le previsioni e la nostra delibera di destinazione del 50% quindi per 10.200 euro sempre per interventi di circolazione segnaletica stradale manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e potenziamento delle attività di controllo di vigilanza ecco questo ricordo che il nuovo codice della strada ha previsto questa nuova modalità comunque una modalità che tutto sommato era già in corso era già in corso perché proprio l'amministrazione sulle sanzioni del codice della strada è obbligata a destinarle però era obbligata a destinare però con questo nuovo codice è obbligata a far conoscere alla popolazione prima non si sapeva che fine facevano i soldi delle multe adesso tu ce l'hai detto sì adesso sì ecco poi magari i cittadini più attenti che sono attenti al nostro albo pretorio dove pubblichiamo le delibere di giunta però ecco per i non addetti ai lavori non tutti leggono il burocratese esatto per i non addetti ai lavori è giusto che hai precisato questa cosa e quindi abbiamo reso partecipi i nostri cittadini Assessore Onorina Carminati prima facciamo una domanda per quanto riguarda il sociale poi per quanto riguarda la scuola per quanto riguarda il sociale in un gruppo facebook è comparso un posto in cui si proponeva di ricreare un servizio navetta per gli anziani visto che oramai tutta la vita sociale del comune in questo comune si svolge più o meno in zona 5 vie dagli studi medici alla farmacia e tutto il resto di organizzare un servizio navetta per gli anziani che vivono un po' nelle periferie del paese io non so se sarebbe una cosa giusta da fare o no però penso che avendo visto che la fanno anche alcuni paesi limitrofi molto più recentrati di noi che hanno proprio un servizio navetta dall'Albenza alle cascine la porta al centro non sarebbe una cosa giusta da fare per i nostri anziani anche dalmenza in realtà noi avevamo già pensato alla possibilità di un trasporto per gli anziani purtroppo la pandemia ci ha bloccato perché non si possono fare assembramenti non si può salire in macchina in due o tre persone dato che non disponiamo di pulmino ma di un doblò infatti perché poi nostra idea è anche di coinvolgere l'Auser che ha anche appena acquistato un'altra auto e poi studieremo anche come fare per poter far accedere le persone in caso di partecipazioni perché certo non è che possiamo mettere le macchine e farle viaggiare su e giù per il paese bisognerà vedere il bisogno che ci sarà e organizzare poi eventualmente la macchina è un conto avere un pulmino dove si possono salire 5, 6, 7, 8 10 persone allora lo si fa viaggiare ma con l'auto rischiamo anche di fare i viaggi a vuoto perciò va un attimino anche studiata guardando poi le esigenze che ci saranno in paese comunque nel prossimo futuro dalla nostra amministrazione è prevista una cosa un'iniziativa come questa la domanda sulle scuole è un po' più ampia ci è sempre stato detto che la maggior parte del bilancio del comune di almeno San Salvatore era incentrato sulle scuole benissimo una cosa che io approvo totalmente perché se c'è una cosa che va guardata è la scuola in un comune vorrei sapere che interventi si sono stati fatti e quali ci faranno nello specifico sia da un punto di vista dell'edificio in quanto tale sia da un punto di vista di piano studio per quanto riguarda le scuole premetto una cosa purtroppo non è la spesa più eccessiva del nostro bilancio perché grazie al nostro sindaco che va a cercare contributi riusciamo a realizzare le opere senza intaccare troppo il comune perché la spesa più grossa del nostro comune sono i servizi sociali che ci porta via gran parte del nostro bilancio allora io parlo di quello che abbiamo speso sulla struttura dell'edificio di quest'anno e del piano di tutto lo studio poi lascio al sindaco le varie iniziative molto onerose alla scuola allora noi quest'anno abbiamo già speso 330 mila euro per gli edifici scolastici 70 mila euro per quanto riguarda l'adeguamento e la messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'impianto di riscaldamento del plesso scolastico e un totale di 260 mila euro per lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici perciò quest'anno abbiamo già speso 330 mila euro è una spesa sicuramente che ci teniamo perché la scuola un ragazzo che va a scuola deve andare in piena sicurezza deve essere sicuro e tranquillo sia loro che le famiglie io adesso descrivo un attimo il piano diritto allo studio e praticamente quello che l'amministrazione dà e i servizi che noi diamo alle scuole per quanto riguarda la scuola materna noi contribuiamo con 40 euro mensile ad ogni famiglia per l'abbattimento della quota certo potremmo fare anche di più però è comunque una spesa che siamo intorno alle 60 70 mila euro e per noi è già fonte di un impegno sostanzioso di un bel impegno esatto poi per quanto riguarda la scuola media ed elementare che per due anni purtroppo dico purtroppo perché causa covid sono rimaste chiuse gran parte del periodo perciò diciamo non abbiamo potuto dedicarvi più di tot per quanto riguarda i progetti e hanno principalmente optato per la didattica ed è giusto che sia così quest'anno siamo riusciti a riprendere un po' un attimo nuovamente quello che avevamo lasciato due anni fa abbiamo dato 7.350 euro per la scuola primaria per quanto riguarda i loro progetti e 7.500 per i progetti della scuola secondaria mentre per il funzionamento dell'istituto comprensivo diamo 5.000 euro e 500 euro per il fondo spese per quanto riguarda sicurezza e pronto soccorso abbiamo già una mensa che funziona benissimo perché abbiamo avuto ieri due classi della scuinta elementare che sono venuti a visitare il comune ho chiesto chi andava in mensa se si trovavano bene mi hanno detto sì sono contenti della mensa che abbiamo infatti per quanto riguarda la mensa quest'anno è partito in via sperimentale il progetto anche sulle scuole medie purtroppo la capienza momentaneamente l'aula mensa non riesce a coprire l'intero plesso scolastico che parliamo circa di 500 ragazzi noi diamo la settimana a tutti i ragazzi della scuola elementare e copriamo tutto il servizio per la scuola media allora abbiamo fatto il martedì il giovedì e venerdì per le famiglie di cui hanno bisogno i ragazzi di fermarsi a mensa e non hanno attività scolastiche pomeridiane mentre abbiamo aperto anche il lunedì e il mercoledì solo ai ragazzi che frequentano i progetti che ci sono nella scuola media o che partecipano all'aiuto compiti quest'anno abbiamo avuto comunque un buon numero c'è sempre il servizio post e pre scuola che quest'anno è ripartito nuovamente fortunatamente mi viene da dire acquistiamo sempre i libri per quanto riguarda la prima media che quest'anno abbiamo scelto il libro di scienze che è il libro più caro e l'abbiamo pagato noi come amministrazione quello che pesa tra virgolette perché secondo me è comunque un aiuto concreto che andiamo a fare l'assistenza educativa scolastica abbiamo 26 ragazzi di cui hanno bisogno di educatori e la spesa che qui andiamo ad affrontare è di 240.000 euro è una spesa che pesa ma diciamo ci vuole per i ragazzi un po' meno fortunati e per per i ragazzi di cui necessitano di di questo servizio abbiamo le borse di studio che sono state mantenute quello l'ho visto è stato pubblicato anche sull'Eco di Bergamo esatto che abbiamo giusto consegnato venerdì scorso poi abbiamo inserito i nostri progetti comunali la vigilanza con i vigili l'educazione stradale quest'anno abbiamo inserito anche l'educazione alla droga e all'alcol con la partecipazione di un cane addestrato che verrà fatto nelle scuole e abbiamo inserito per la prima volta una visita culturale al binario 21 a Milano la stazione che pochi conoscono secondo me è un buon per i ragazzi vanno a toccare con mano un pezzettino di realtà che si sperano a ritorni e speriamo speriamo che non ritorni veramente aggiungo a quello che ha riportato l'assessore Carminati sulle scuole sul sociale prima cosa andremo a sistemare il centro di aggregazione giovanile casa per sorriso per disabili un intervento a 30 mila euro partiranno i lavori a breve quella è una bellissima cosa per i disabili infatti infatti noi siccome che abbiamo a cuore i disabili e tutte le persone che hanno bisogno abbiamo deciso di investire 30 mila euro in questo stabile che ormai è rimesso a nuovo che andiamo a recuperare il sottotetto si faranno dei magazzini nuovi dopo due anni e mezzo la nostra amministrazione ha realizzato l'80% del programma elettorale sulle scuole parlavo dei 330 mila euro di investimento non sono bruscolini ecco aggiungo più ne investiremo 500 mila il primo intervento che avevamo fatto sulla palestra delle scuole medie avevano fatto tutto il pavimento tutte le vetrate il cappotto poi stiamo aspettando un altro bando da 500 mila euro andremo a sistemare la parte vecchia degli elementari e poi c'è un sogno che non posso dire quanto sogno nel senso io dico un milione di euro verranno investiti sia sulle scuole che sulla palestra delle medie e poi c'è un sogno che lo vedrete sicuramente prima della fine del mandato dunque Paolo Locatelli assessore allo sport e alle politiche giovanili partiamo con lo sport il covid ha fermato specialmente lo sport ed è ripartito con una campionessa nazionale che è molto giovane di Almenno Lara che ho visto è andata a vincere ancora e con una bella stagione dell'unico sportivo professionista di Almenno Simone Ravanelli eravamo io il sindaco alla cena del suo fans club diciamo cosa ci puoi dire della ripartenza dello sport in Almenno perché io vedo tanto entusiasmo specialmente nei ragazzi pallavolo pallacadestro calcio vedo tanto entusiasmo e la voglia proprio di sport che c'è allora diciamo subito che in questi ultimi due anni lo sport ha avuto una grande sofferenza per tutto quello che sappiamo è stato massacrato è stato massacrato la ripartenza di settembre pensavamo che fosse un pochino più energica invece purtroppo lo sport sta ancora soffrendo ci sono addirittura realtà che stanno chiudendo e che lavorano al 30 40% diciamo che l'80% delle realtà ma non solo almeno come hai detto tu prima siamo appena tornati da Catania per un campionato italiano e calcolando che un campionato italiano dove c'erano 5, 600, 700 atleti con 100 150 società eravamo la metà e parlando con tutti i colleghi sono tutti sulla stessa barca cioè stanno lavorando tutti al 50 60% delle potenzialità purtroppo almeno non è escluso da questa realtà quindi molte società stanno soffrendo ci sono società che magari non hanno avuto questa sofferenza e lavorano ancora con i numeri pieni ma purtroppo un po' di sofferenza c'è e non finirà chiaramente con gennaio marzo aprile si spera con l'anno con l'anno venturo 2022 con la nuova stagione bisogna tenere duro fino alla prossima stagione credo che questa sia la prerogativa di tenere duro fino alla prossima stagione settembre 2022 una cosa ci tenevo a dire che abbiamo notato che la stragrande maggioranza di chi è assente nello sport sono i ragazzi e la fetta dei giovani dai 12 ai 18 anni lì c'è stata una perdita pazzesca vuoi perché le scuole ancora non sono a pieno regime quindi i ragazzi entrano alle 10 escono alle 5 fanno fatica non ci sono i mezzi pubblici che arrivano a nostre valli vuoi perché ancora molti genitori non hanno vaccinato i ragazzi dai 12 ai 18 anni dove si è avuto la mancanza dei giovani nello sport proprio dai 12 ai 18 anni e chiaramente questo porterà poi anche delle conseguenze più avanti perché lì ci sarà un buco quando arriveranno i cadetti gli unior e i signori e si sposterà tutto e ci saranno delle problematiche anche per le società soprattutto per quelli che hanno le squadre per gli sport di squadra ho visto un ottimo intervento nella palestra comunale ci puoi dire cosa è stato fatto già che siamo in ambiente sportivo ho visto 15 3 settimane di lavoro giù al centro sportivo comunale mi pare si sia stato rifatto il riscaldamento o roba del genere ci puoi dire nella palestra nel palazzetto sportivo abbiamo rifatto tutto l'impianto luci abbiamo rifatto parte dei serramenti cioè sistemati i serramenti abbiamo rifatto tutto quello che era la normativa delle uscite di sicurezza con l'impiantistica delle uscite di sicurezza al bocciodro abbiamo rifatto abbiamo rifatto tutto il riscaldamento e messo le luci led dove mancavano c'è ancora un po' abbiamo sistemato tutte le perdite che erano dieci anni che in palestra nel palazzetto c'erano i secchi per raccogliere l'acqua piovana dal tetto quello ormai l'abbiamo sistemata c'è ancora da fare qualcosina sul riscaldamento ma ci stiamo lavorando appena arriveranno i fondi riusciremo a trovare i fondi sistemeremo anche questa cosa ok l'ultima domanda e poi c'è un'ultimissima domanda per il sindaco per chiudere in bellezza e questa è la domanda più cattiva perché è la cosa a cui più tengo certo io vedo da 50 anni io 57 anni da 50 anni chiaro almeno non si è fatto mai niente per le persone di quel target lì che dicevi tu dai 12 ai 18 ai 20 diciamo cioè si fanno magari delle giornate una, due, tre l'anno come tante ciliegine sulla torta solo che non c'è la torta nessuna amministrazione comunale che si prende la briga di creare qualcosa di base per quella generazione che ne so io un posto un luogo per evitare che appena possono scappano via cioè esci la sera dopo le 7 almeno un paese morto non dico che debba essere come Bergamo o come Dalmine dove alle 10 di sera vai sotto i portichetti e ci sono tre bar di fila tutti pieni di ragazzi cioè quella è un'esperienza che ho vissuto io per tanti anni perché in quei bar lì si andavo oppure ad Alme oppure a Paladina cioè qualcosa qualche idea l'anno scorso era girata l'idea di fare un'assemblea con i ragazzi di una certa età per sentire la loro voce cosa volevano fare cosa si vuole fare qualcosa hai centrato perfettamente quello che è il problema delle politiche giovanili gli eventi sono una cosa gli eventi poi si fanno domani ci sono dopo domani non ci sono le politiche giovanili invece sono una cosa un po' più complessa la domanda all'inizio mi hai detto che era cattiva ma poi non è così cattiva tu hai detto è 50 anni che non si fa niente è chiaro che Paolo Locatelli non arriva con la bacchetta magica e risolve i problemi di tutti difatti non è un attacco personale è che siccome io vi posto fiducia in voi vorremmo vedere qualcosa allora adesso non è una scusante ma è chiaro che è chiaro che l'evento Covid ha prenatto anche le iniziative ma il problema delle politiche giovanili che non è l'assessore o l'aggiunto comunale che deve creare delle iniziative quello che noi dobbiamo fare è cercare di mettere insieme tutti quegli annetti del tessuto sociale che abbiamo sul nostro paese perché quelli restano che sono le associazioni che sono i volontari perché i giovani hanno bisogno di fiducia opportunità hanno bisogno di questo e chi glieli dà glieli danno tutte quelle associazioni che operano sul nostro territorio da tantissimi anni posso fare mille esempi gli alpini la croce azzurra le attività sportive perché alla fine poi i giovani hanno bisogno di doversi collocare da qualche parte e non vengono a collocarsi in comune vanno a collocarsi su tutte quelle società che operano sul nostro territorio ed è lì che noi dobbiamo lavorare ed è lì che dobbiamo mettere sinergia tra tutte queste società che possono collaborare e proporre eventi ma non eventi singoli eventi che siano duraturi a 360 giorni dell'anno l'oratorio l'oratorio fino a qualche anno fa era un punto di riferimento importantissimo per noi giovani io sono cresciuto all'oratorio ma penso che noi tutti i bambini siamo cresciuti all'oratorio è qui che bisogna andare a lavorare ora noi stiamo facendo degli incontri sia con le società sportive con gli enti con gli alpini con la croce azzurra con l'oratorio proprio per creare questa sinergia sul nostro territorio secondo me è una base sbagliata questo perché ci si aspetta che altri facciano qualcosa io invece penso da questo punto di vista che devono essere i giovani stessi a fare non le associazioni di over 40 fare qualcosa perché se si aspetta quello prima di tutto io l'anno scorso quando il signor sindaco mi aveva detto faremo un'assemblea con i ragazzi di 18 anni li chiamiamo e li sentiamo per capire cosa vogliono loro non cosa vuole la croce rossa la croce azzurra vedete vedete che è questo il problema che spesso non capiamo quali sono le politiche giovanili non è che io ho detto che cosa vuole la croce rossa cosa vuole sono dei punti di riferimento dove i giovani possono collocarsi non è creando una piscina che tu farai contenti i giovani di almeno San Salvatore farai contenti quelli 30 persone che andranno in piscina ma gli altri 100 che non andranno in piscina dovrai costruirgli i campi da tennis ma non è questo il problema è creare fiducia nei giovani e che i giovani possono immettersi nel nostro territorio su quegli anelli di tessuto sociale per poi collocarsi dove possono scegliere cosa fare è importante questo perché se noi facessimo una consulta di giovani e hai 10 giovani uno ti dirà che vuole l'aeroporto uno che vuole la piscina uno che vuole la metropolitana e uno che vuole andare sulla luna devi creare delle situazioni dove i giovani si possono collocare è certo che poi devi chiamare i giovani e capire e capire dove poter lavorare con loro è chiaro che poi devi lavorare quando ho detto prima con queste realtà sul territorio perché le realtà sul territorio sono fatte di persone ed è qui la difficoltà a volte a far capire alle persone che gestiscono certe realtà che devono coinvolgere i giovani e devono dare spazio ai giovani perché nel momento in cui non coinvolgeremo i giovani sul nostro territorio molte realtà del nostro territorio spariranno coinvolgere i giovani con idee di altri io invece dico portare avanti le idee dei giovani faccio un esempio organizzare ad almeno un posto non dico come le donne di Bergamo perché almeno è piccola rispetto a Bergamo però sulla falsa riga di quello ad almeno abbiamo un posto che è la zona del mercato che è tolto il sabato mattina a cosa serve? ma solo a parcheggio? non si può ma allora parliamo di eventi o parliamo di politiche giovanili una politica giovanile le donne non è un evento è quotidiano le donne a Bergamo e ci vanno tutti cioè è certo ma non è che lo puoi costruire in due giorni lo so è quello cioè ma bisogna partire allora abbiamo anche messo a disposizione per il 2022 un bel po' di soldi per costruire determinati eventi ma eventi che devono rimanere nel tempo allora ti faccio un esempio sarebbe bellissimo riuscire a coinvolgere i bar e fare delle serate culturali era quello che volevo arrivare io ma certo ma è chiaro che prima devi costruire il tessuto sociale per far capire alle persone che queste cose sono importanti e possono comunque portare anche dei benefici alle loro attività ma non è una cosa che costruisci si costruisce sulla base della fiducia questa cosa e ci vuole tanto tempo per lavorare su queste cose e dobbiamo continuare a lavorare come uno può dare l'idea può aiutarti può mettere i soldi ma non può di prima persona costruire questi eventi sul territorio quindi abbiamo bisogno e di fatti abbiamo fatto una collaborazione con la Proloco degli Almenno che adesso si chiama così dico bene sindaco ok perché è quello che dico prima che se facciamo morire quelle realtà che ci sono sul territorio e non facciamo ai nostri giovani pensare che devono loro sono loro il futuro che porteranno avanti queste cose moriremo sempre di più perché non è l'evento singolo che ti porta a qualcosa non è il bar in più in meno che ti porta a qualcosa ma è il coinvolgimento e la fiducia da porre sui giovani e che è questo che molte associazioni gestite magari da persone un po' su di età devono pensare di coinvolgere di più i giovani poi è chiaro che andremo a fare un sacco di eventi perché voglio fare degli eventi con la scuola un altro punto focale del nostro territorio eventi che coinvolgeranno scuola e sport eventi che coinvolgeranno scuola e gite in montagna voglio fare la notte bianca la premiazione degli atleti che non è mai stata fatta quello che parlavamo già due anni fa il 2020 non l'abbiamo potuto farla il 27 io sono invitato a Zogno a una premiazione per fare un'esilizione è chiaro che anche questa non la puoi creare se non è mai stata fatta in tre mesi lo so stiamo lavorando purtroppo quando poi non c'è niente e devi costruire tutto da nuovo diventa difficile è chiaro che poi potevamo fare di più potrò fare di più certo anche io posso fare un esempio un piccolo esempio passiamo al sindaco per la domanda finale perché non fare un giorno tutte le terze medie ad ascoltare cosa vorrebbero trovare in paese quando finiscono la terza media che molti escono dal paese per andare a figliare perché non fare un ascolto di questi ragazzi non dei 18 anni ma dei 13 anni 14 anni ma però col sindaco già avevamo pensato di organizzare che poi abbiamo dovuto rispostare rispostare nel 2022 se riusciamo anche perché devi farlo in una palestra con 200 300 ragazzini esatto e la prima cosa che andremo a fare appena si aprirà si potrà fare sarà proprio quella di ascoltare i giovani di varie fasce d'età al palazzetto dove sarà 2023 Bergamo e Brescia capitali della cultura almeno può entrare nel giro di quest'anno particolare che si preannuncia per le nostre due province visto che di cultura quadra almeno ne abbiamo abbastanza tanta e anche di storia per cui penso che possa entrarci in questo anno particolarissimo assolutamente sì ci siamo già pensando però qui a questo bando alla cultura parteciperà il comune con la fondazione Lemini ecco benissimo abbiamo già fatto l'incontro anche con Gori con il comune di Bergamo che siamo entrati nel livello gestirà il comune di Bergamo però ci saranno varie realtà dunque a questa iniziativa parteciperà parteciperà i due almenni con la fondazione Lemini era l'ultima domanda che avevo in servo per voi e adesso lascio a voi il dovere la voglia la possibilità di comunicare quello che mi sentite di dire alla popolazione che io non sono entrato nelle domande sindaco assessore 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 prego allora prima di arrivare alle conclusioni e gli auguri volevo precisare sui giovani sono in contatto con Don Lorenzo a breve faremo una riunione ancora per ripartire su cosa vogliono i giovani anche con l'assessore abbiamo parlato però sono i giovani che devono darte l'idea il comune finanzia come diceva Locatelli ma il comune non deve proporre sono loro che devono proporre però più di una volta gli ho detto cosa volete non hanno idee i giovani cioè difficilmente uno ti dice cosa vuole fare ti dicono dammi i soldi che faccio la festa c'è uno per esempio gli dicevi dammi 10.000 euro no non funziona così che festa vuoi fare e noi lo organizziamo non funziona quello lo so che non funziona allora per quello che io voglio rifare il giro di riunioni su questi argomenti per i giovani ma noi quei giovani anche perché non abbiamo sempre parlato con l'assessore bisogna partire dalle scuole appunto è quello che ti ho detto io partire dalle scuole ma come stiamo facendo è che il problema del Covid ci ha fermato un po' tutti volevo aggiungere che come assessorato al bilancio sto lavorando al bilancio 2022 che cercheremo di approvare nel più breve tempo possibile per consentirci di partire fin da subito con tutti gli investimenti previsti appunto per l'anno 2022 che come anticipava il sindaco per quanto riguarda le opere pubbliche prevede lavori importanti anche nel 2022 poi un'altra cosa a cui tenevo molto sottolineare dal punto di vista del commercio invece la pandemia purtroppo lo scorso anno ci ha fatto mancare anche la sagra della Madonna Candelora per quanto riguarda la Candelora voglio dire che è molto importante soprattutto iniziamo prima di tutto dal punto di vista religioso per il nostro territorio ma è molto importante anche dal punto di vista commerciale appunto per tutto il contorno di bancarelle storiche che ci sono sempre state e stiamo lavorando appunto per la Candelora 2022 che verrà proposta in modo diverso con una dislocazione diversa e avremo degli spazi a disposizione anche per le nostre associazioni comunali che volessero venire anzi anticipo già fin da ora l'invito alcune le ho già contattate che volessero partecipare per proporre appunto le loro attività e abbiamo anche degli spazi a disposizione delle nostre attività commerciali e artigianali locali di almeno San Salvatore che volessero venire ad esporre i loro prodotti grazie volevo dire un paio di cose riguardo ai servizi sociali e alla cultura per quanto riguarda i servizi sociali vedo che purtroppo abbiamo fatto pubblicità ma non è arrivato molto il servizio dell'ostetrica a domicilio che è una bella opportunità per le neomamme che hanno appena avuto il piccolo e che sono uscite dall'ospedale visto che è un servizio totalmente gratuito e si trova in via Zuccala dove abbiamo dato l'opportunità di fare questo servizio in una sala dell'ex giudice di pace invito tutti quanti che ne avessero necessità vista l'opportunità di rivolgersi all'ufficio servizio sociale del comune di Almeno San Salvatore inoltre quest'anno è ripartito dopo due anni di fermo lo spazio gioco è ripartito con numeri purtroppo limitati perché siamo a sette per turno due mattine la settimana e anticipo che si partirà con la terza mattinata da gennaio ci auguriamo di tenerlo sempre aperto e di cercare di aumentare il gruppo appena c'è possibile l'altra iniziativa che devo dire che funziona molto bene è il caffè sociale doveva partire due anni fa ma poi è stato chiuso per la pandemia adesso è ripartito grazie anche alla signora Spangaro che è presidente del centro anziani del nostro comune e siamo arrivati ora a 11 partecipanti piace molto e stiamo poi cercando di coinvolgere commercianti e arriveremo poi anche a loro per spiegare un po' l'attività in modo di riuscire a tenerlo aperto perché è un aiuto veramente valido per le persone sole autosufficienti quasi autosufficienti comunque che possono partecipare il comune ci sta mettendo di proprio l'utilizzo della nostra macchina che va a prendere a domicilio grazie ai nostri volontari e li riportano a casa loro è coinvolto anche l'hauser che anche loro ci mettono la macchina gli alpini che sempre sono dovunque dove c'è bisogno noi li troviamo e li ringraziamo molto come ringraziamo tutti i volontari che partecipano e anche l'acli e la san vincenzo poi volevo spendere due parole per quanto riguarda anche la cultura perché anche se abbiamo avuto un periodo di fermo ma la nostra biblioteca è sempre stata inattivo in periodo in periodo di fermo ha contribuito a portare a casa i libri da leggere alle persone e abbiamo avuto 444 prestiti fatti a domicilio perciò vuol dire che è una biblioteca che funziona molto bene inoltre a novembre dello scorso anno è stato installato all'ingresso della biblioteca il box per il rientro del materiale librario così anche a biblioteca chiusa possono lasciare il libro comodamente nel frattempo abbiamo fatto l'inaugurazione del profilo facebook che così anche la biblioteca ha il suo profilo e devo dire che è visitato sul mondo social devo ringraziare anche qui già da battaglia Silvia Panza e Veronica Pellegrini oltretutto sono stati realizzati dei video che si sono cimentati con il libro e la sua produzione autori almenesi inoltre con un autore al mese sono stati presentati scrittori italiani e stranieri di particolare rilievo non sono però mancate le proposte per i più piccoli con la rubrica Bibliocoloriamo mentre con Castelli della Bergamasca si è aperta una finestra sulla ricchezze architettoniche della nostra provincia abbiamo fatto anche alcune iniziative come lo spettacolo dei burattini per i più piccoli ed una serata musicale in compagnia di Interludio 2 duo alla Madonna del Castello quest'anno le migliorate condizioni generali ci hanno permesso di programmare alcuni eventi a partire da giugno anzitutto la serata aforisticamente dedicata agli iscritti di Fabrizio Caramagna realizzata nella villa Vitalba in collaborazione con la famiglia Lurani Cernuschi in seguito per richiamare l'attenzione sul restauro della chiesa di San Nicola è stata realizzata ad agosto nel colore dei romanzi poi a settembre è stato sperimentato con ottimi risultati un connubio tra cibo letteratura e musica con iniziativa il buon gusto delle parole che abbiamo fatto in biblioteca inoltre abbiamo fatto anche il caffè la pausa caffè siamo riusciti a realizzare la mostra del libro che anche qui dopo due anni che è stata ferma l'abbiamo realizzata in biblioteca e devo dire che ha avuto molto successo è stata apprezzata da tanti nostri concittadini e speriamo piano piano di poter continuare io dico che se ci sono delle persone che hanno delle iniziative soprattutto dei giovani che vogliono realizzare qualcosa hanno delle iniziative non abbiate paura venite pure da noi che noi siamo disponibilissimi a ascoltarvi e se possiamo darvi un aiuto per realizzare quello che avete in mente siamo ben felici di poterlo fare grazie io voglio ringraziare penso a nome anche di Marco Pessina che è il regista occulto di questa intervista l'amministrazione comunale e il sindaco per la considerazione che hanno dei nostri due gruppi almeno San Salvatore nel cuore e Le Mine News della collaborazione che hanno con noi e dell'accettare anche qualche critica perché la perfezione non è neanche del sindaco è stato un confronto franco sono contento di questa intervista e lascio al sindaco la chiusura ma anche io ringrazio voi ringrazio Le Mine News è una persona di Marco e Umberto Locatelli per la pagina almeno San Salvatore nel cuore noi siamo sempre disponibili anche le critiche giustamente come diceva Umberto però la critica deve essere sempre costruttiva perché se una critica deve essere politica o tanto per criticare non va bene anche perché io e tutti i miei collaboratori siamo sempre disponibili e sempre in mezzo grazie per l'intervista e alla prossima